Ben ritrovati, ben ritrovate a secondo appuntamento veneziano delle lezioni sciasciane. Per chi eventualmente non ci avesse seguito la settimana scorsa ricordo che si tratta di un progetto ideato dal Comitato Nazionale per il Centenario della Nascita di Leonardo Sciascia, a cui collaborano anche l'Università per Stranieri di Siena, l'Associazione Amici di Leonardo Sciascia, la rivista di studi sciasciani Todo Modo e Treccani, che ringraziamo oggi particolarmente nella persona di Giovanni De Stefano che ci segue nel nostro collegamento. Per l'organizzazione delle lezioni veneziane, devo ringraziare, dobbiamo ringraziare Proteo Venezia che ha affiancato l'Università Caposcari in tutti gli appuntamenti appunto che si tengono virtualmente dalla laguna. La settimana scorsa abbiamo sondato l'attualità di Sciascia, così recita infatti il titolo del nostro piccolo ciclo, con la professoressa Rizzarelli, analizzando, valutando la particolare apertura dello scrittore a diversi linguaggi artistici. Oggi affrontiamo il tema da un altro punto di vista, ovvero sia discutendo, rivedendo e approfondendo l'aspetto della collocazione di Sciascia nella letteratura secondo novecentesca e lo facciamo con due interventi. Il primo, dal titolo L'ultimo grande scrittore moderno, Sciascia e la letteratura italiana del secondo novecento, ci viene proposto dal professor Fabio Moditerni che abbiamo il grande piacere di ospitare, anzi lo ringrazio molto per aver accettato il nostro invito, ci fa particolarmente appunto piacere averlo qui con noi. Il professor Moditerni insegna letteratura italiana contemporanea presso l'Università del Salento e ha una serie di interessi di ricerca che si muovono veramente su una tastiera molto ampia. Possiamo ricordare qualche linea insomma delle sue ricerche che spaziano dalla storia della cultura e degli intellettuali tra otto e novecento, la poesia italiana del novecento e contemporanea, la letteratura meridionale del novecento e però appunto un po' una fetta abbastanza consistente delle sue ricerche ha proprio interessato Leonardo Sciascia. Ecco, se dovessimo ricordare tutte le sue pubblicazioni anche solo su Sciascia, perché poi sono molto più numerose che non quelle riservate solo a Sciascia, avremmo da fare un lungo elenco per cui mi limiterei a citare soltanto qualche titolo. Prima però di ricordare i suoi studi Sciasciani voglio così segnalare un testo molto importante secondo me uscito proprio nel 20, l'epistolario tra Roversi e Serene, bellissimo titolo, Vincendo i venti nemici, lettere 1959-1982, pubblicato il professor Moliterni e anche un bellissimo carteggio secondo me di Sciascia con Bodini, anche lì un bel titolo, Sud come Europa, carteggio 1954-1960, pubblicato da Besa nel 2011. Ecco, uno degli epistolari che ci stanno recentemente proprio facendo conoscere una serie di così di referenti per Sciascia che magari conoscevamo di meno e che invece ci rendiamo conto sono state per lui importantissime. Ancora due volumi ha dedicato il professor Moliterni e Sciascia, il primo è uscito nel 2007 da Biagraphis, la nera scrittura, saggi su Leonardo Sciascia, poi in parte ripreso e rivisto e così nel volume recente del 2017, Sciascia Moderno, vedete il titolo proprio ci porta al cuore del nostro argomento, studi, documenti e carteggi pubblicati da Pendragon nel 17. Ancora mi piace ricordare un articolo illuminante secondo me uscito nell'ultimo numero di Todomodo nel 2020 e negli atti di un convegno che si era tenuto a Parigi l'anno prima, il titolo Un moralista meridionale Sciascia, Gramsci e il Sud. Dopo la lezione del professor Moliterni avremo un secondo intervento del dottor Andrea Verri che ci parlerà ehm dello stesso argomento di cui eh appunto ci stiamo occupando ehm analizzandolo in rapporto a ehm particolare diciamo particolare relazione con tra scrittori che eh andrà a verificare nel Consiglio d'Egitto il titolo della sua eh della sua conversazione il Consiglio d'Egitto la Tortura e l'impegno. Dottor Verri penso sia conosciuto a molti dei presenti eh sulla al nostro collegamento insegna materie letterarie presso l'Istituto Statale di Istituzione Superiore 8 marzo Lorenz di Mirano ecco ha conseguito il dottorato di ricerca da noi a Ca' Foscari con una tesi eh proprio su Leonardo Sciascia. Questa tesi poi è diventato un volume il titolo per la giustizia in terra Leonardo Sciascia, Manzoni, Belli e Verga, comparsa nel duemiladiciassette e poi sono seguiti anche altri interventi su Sciascia e non solo. Siccome il nostro programma è molto denso io non voglio rubare altro tempo e passo subito la parola al professor Mori Perni ancora ringraziandolo della sua partecipazione alle nostre lezioni. Fabio a te la parola. Grazie, grazie Ricciarda eh un saluto a te in particolare ma poi a tutti gli organizzatori eh spero che si senta e si veda tutto bene e sì come tu dicevi io cercherò soprattutto di stare nei tempi e poi mi devo scusare per la voce particolarmente bassa ma in questi giorni come forse qualcuno di voi saprà il sud è stato colpito da un vento molto forte di di tramontana insieme a tutte le altre cose. Ehm allora ehm io cercherò di come dicevamo di collocare Sciascia nella letteratura italiana del secondo novecento mi verrà forse di ripetere alcune cose note ma ehm sapendo che lo spirito di queste lezioni è quello di eh dedicare diciamo eh un approfondimento all'opera di Sciascia rivolto soprattutto alle scuole e sappiamo bene come il novecento ma eh in particolare la seconda parte del novecento è un periodo purtroppo molto trascurato per questioni anche soltanto di tempo appunto nelle scuole italiane mi sembrava giusto ripercorrere appunto la eh biografia intellettuale di Sciascia negli anni sessanta settanta fino alla sua scomparsa. Per farlo vedrete che ehm adesso condivido lo schermo avrete potrete sia vedere diciamo immagini degli scrittori coetane appunto di Sciascia di cui parlavo tra poco ma anche leggere insieme a me alcune citazioni alcuni brani delle sue opere ma anche di altri autori. Allora eh vediamo se riesco a condividere. Credo di sì, vero? Sì. Sì, bene. Benissimo, grazie. Allora eh vorrei incominciare da un articolo di Mario Barenghi pubblicato lo scorso gennaio sulla rivista online doppiozero punto com. Barenghi ricordava che durante questi ultimi anni stiamo assistendo al centenario di un'intera generazione di scrittori. Il duemila e diciannove è stato il centenario della nascita di Primo Levi. Nel duemila e diciassette ci sono celebrati i cento anni di Fortini. Il duemila e venti appena passato ha festeggiato i cento anni della nascita di Gesuardo Bufalino e Gianni Rodari. Quest'anno come tutti sappiamo è la volta di Sciascia nato l'otto gennaio e di Mario Rigoni Stern primo novembre. Nel duemila e ventidue ancora toccherà Luciano Bianciardi, Fenoglio, Mancanelli, Meneghello, Pasolini. L'anno seguente a Testori, Calvino e a Roberto Roversi. Nel duemila e ventiquattro infine sarà l'anniversario di Giuseppe Bonaviri e di Paolo Volponi. È la generazione degli scrittori nati negli anni venti del novecento. Di coloro che hanno vissuto da protagonisti gli eventi centrali della seconda parte del secolo scorso. La guerra, la fine del fascismo e la Shoah, la resistenza e la fondazione della Repubblica, gli anni della ricostruzione, gli entusiasmi e le delusioni, il miracolo economico, fino alla stagione del terrorismo e del crollo del muro di Berlino. Più volte, se ci pensiamo, è stato fatto notare che le date della nascita e della morte di Sciascia si intersecano proprio con due tra gli eventi costitutivi del cosiddetto secolo breve. La fondazione nel 1921 del partito comunista italiano, un altro centenario, e appunto nel 1989 la caduta del muro di Berlino e la conclusione definitiva della guerra fredda con tutte le conseguenze che arrivano a segnare la nostra epoca della globalizzazione. I narratori degli anni venti rappresentano la spina dorsale del canone novecentesco. Per loro non contano le oscillazioni del gusto o del mercato, si direbbe che rappresentano forse gli ultimi classici del secolo scorso, gli ultimi grandi scrittori italiani moderni, come è stato suggerito da uno studioso di Pasolini, Antonio Tricomi. Barenghi concludeva così la sua rassegna. Le leggendo l'elenco di nomi da cui siamo partiti, viene da pensare che davvero non sia facile trovare né prima né dopo un drappello di scrittori di quella levatura. L'obiettivo di questo mio intervento, come mi anticipavo, sarà quello di far dialogare Sciascia con gli autori che sono stati i suoi coetanei, provando a individuare qualche aspetto che lo avvicina o lo allontana da Calvino, Pasolini, Primo Levi, e ragionando in breve sull'idea di letteratura che l'autore siciliano elabora a partire dagli anni sessanta e settanta fino alla sua morte. Avverto in partenza che le mie riflessioni serviranno soltanto a fissare i tratti più nuovi e significativi dalla vicenda intellettuale di Sciascia. Avranno un carattere piuttosto frammentario, ma di certo interlocutorio. Dal momento che uno studio più approfondito sulle relazioni individuali intrattenute da Sciascia con gli scrittori suoi coetanei, sarà possibile quando avremo la disponibilità degli epistolari integrali. Oggi solo in parte recuperati, a partire per esempio dal carteggio con Roberto Roversi ed alcune lettere scambiate da Sciascia con Pasolini e Italo Calvino. Ma sappiamo per fortuna che la fondazione Sciascia di Racalmuto conserva tutto il materiale epistolare dello scrittore che è liberamente consultabile grazie all'impegno del direttore letterario Antonio Di Grado e dei suoi collaboratori. Ed è, faccio notare, un materiale ancora in parte inedito dal quale è attinto, per esempio, Paolo Squilaccioti nel suo lavoro filologico per le opere complete pubblicate con Adelfi. Ricordo poi che proprio sul dialogo con l'opera di Pasolini si è tenuto nel novembre del 2019 un convegno a Casassa della Delizia promosso dal Centro Studi Pasolini in collaborazione con l'Associazione Amici di Leonardo Sciascia, intitolato Pasolini e Sciascia ultimi eretici, affinità e differenze tra due intellettuali soli e disorganici, fraterni e lontani. E faccio presente infine che la bibliografia critica sul dialogo avviato da Sciascia anche a distanza con figure potremmo dire fraterne e lontane come lo stesso Calvino e Primo Levi, si è andata arricchendo in questi anni grazie ad alcuni studi ospitati sulla rivista internazionale Todo Modo, pubblicata da Olski e diretta da Ricciarda Ricorda e Francesco Izzo. Partirei da un anno chiave, il 1975. In un articolo del 24 gennaio Pasolini annunciava la fine della sua collaborazione con il settimanale Tempo, dove aveva pubblicato articoli e interventi sulla letteratura contemporanea che poi furono riuniti nel volume postumo intitolato Descrizioni di Descrizioni. Ecco, potete leggere le righe tratte da questo articolo. Dopo circa 100-150 settimane in cui regolarmente ho scritto ogni settimana un pezzo su un libro, prendo concedo dal mio lettore per un periodo di sosta. Forse casualmente o forse per una consapevolezza più grammatica, l'occasione della sua descrizione finale è legata all'uscita di un romanzo di Sciascia, Todo Modo. Altra cosa gradevole è parlando dell'ultimo libro di Sciascia che prendo concedo dal lettore. Le sincronicità o le coincidenze suggeriscono per la scrittura testimoniale dell'ultimo Pasolini una volontà di destinare il congedo in pubblico, rivolgendosi agli esponenti della sua generazione, ai compagni di strada persi o ritrovati nel corso del tempo, interpellati ancora poco prima della sua morte. Un riscontro è dato dall'ultima lettera luterana, anch'essa rivolta a uno scrittore equitanio come Calvino, pubblicata da Pasolini sul mondo il 30 ottobre 1975, cioè due giorni prima del suo assassinio. Pensando proprio a Pasolini e alle sue descrizioni, si tratta quindi di riattivare un angolo visuale utile per inquadrare la figura di Sciascia nella cornice più vasta degli sviluppi della storia culturale italiana del secondo novecento fino ad oggi, a partire proprio dalla generazione letteraria alla quale appartiene. Le possibili genealogie che discendono da questa impostazione consentirebbero di inserire lo scrittore siciliano nel quadro delle dinamiche conflittuali che portavano alla consunzione della tradizione del moderno, provocando una revisione dell'idea di letteratura ereditata dal passato, di fronte all'incedere di nuove forme e sistemi della percezione letteraria del reale caratteristici del cosiddetto postmoderno. Durante gli anni Sessanta, Sciascia viveva nel corpo stesso della sua scrittura il crollo delle speranze e degli ideali progressisti. Basti pensare all'anno del 1956 e a quanto contò questa data traumatica per i possezionamenti politici gli autori che erano stati vicini al comunismo, da Calvino e Fortini a Pasolini, lo stesso Sciascia del racconto La morte di Stalin. Contemporaneamente si trovava a dover affrontare il collasso delle poetiche del realismo che invece avevano fatto scuola negli anni del dopoguerra, neorealismo ed intorni. Il vago, ma identificabile sostrato gramsciano, già complicato nella sua peculiare formazione giovanile dal pirandellismo di natura che intride le favole della dittatura, così come le cronache regionali e i tentativi di affresco storico, stiamo parlando della cosiddetta preistoria di Sciascia, ora si prestava a fungere non come ingombro ideologico del passato, ma di certo come un precario sistema di riferimento smentito dagli eventi. Ed è significativo che da quello snodo la sua ricerca letteraria risulterà inevitabilmente turbata, segnata dalla necessità di sperimentare forme di pensiero e modalità di scrittura, per dirla proprio con Pasolini, all'altezza del nuovo corso della storia. Da quel momento si eccrisseranno o muteranno nel profondo gli elementi che avevano caratterizzato i suoi esordi. Il pervasivo riferimento ambientale alla Sicilia è la tipologia del personaggio positivo, retaggio delle poetiche realiste, al centro dei primi testi narrativi, dalle parrocchie delle Galpetra al capitano Belloni del giorno della civetta. Si imporrà invece la necessità di una svolta museologica, il bisogno di abbandonare, o meglio di destrutturare alle radici, gli schemi e i generi ereditati dalla tradizione, per approdare a una sostanziale complicazione delle forme della sua scrittura. Un'idea di letteratura questa che lo spinge a superare, o meglio a rinnovare, la tradizione del romanzo realista per sperimentare invece nuovi percorsi narrativi e tipologie espressive. Come tutti sicuramente ricordiamo, partire almeno dalla morte dell'Inquisitore, che esce nel 1964, l'opera di Sciascio prenderà durante gli anni Sessanta la strada dell'inchiesta del saggio narrativo o del non-fiction novel, per usare una tipologia oggi molto alla moda e rilanciata in anni recenti da Gomorra di Roberto Saviano, e parallelamente seguirà la strada del giallo metafisico, sperimentato già negli anni Settanta, qui vediamo appunto il contesto, e poi ripreso alla fine degli anni Ottanta, da todo modo fino al Cavaliere la Morte e oltre. Torneremo tra poco su questa bipartizione della sua opera, che in realtà è solo apparente e ingannevole, perché prevede una continua violazione delle frontiere e dei confini tra i generi letterari. Possiamo servirci delle numerose dichiarazioni d'autore spese in questo senso, quando ad esempio Sciascio dichiarava di se stesso, credo di essere saggista nel racconto e narratore nel saggio, ma per ora proviamo a inquadrare il suo percorso nel contesto della generazione degli scrittori suoi coetanei. Questa necessità di sperimentare nuove forme narrative accomuna gran parte degli autori che ho citato all'inizio, gli autori nati negli anni venti, che ora si trovano gradualmente come davanti a un baratro, fra congedi tormentati da un passato esistenziale ideologico ormai inservibile e nuovi traumi con cui confrontarsi, non solo a livello strettamente letterario e di poeti, che sono questi gli anni ricordiamolo dell'influenza della mia avanguardia e del gruppo 63. All'interno del campo letterario entro cui agevano questi scrittori, trasvolte, palinodie, abbiure e verifiche dei poteri, sperimentalismi e silenzi, si costituiva un insieme complesso di traiettorie che va inteso non solo come sintomo di una difficoltà letteraria a elaborare un nuovo stile, una nuova identità di scrittura, ma anche come il riflesso delle dinamiche culturali, politiche e ideologiche di quel tempo storico. È proprio a partire dagli anni Sessanta che in Italia incominciano a farsi evidenti lo sfinimento e la crisi degli ideali ereditati dal passato. Si risolvono lentamente le forme collaudate della dialettica intellettuale e della società letteraria tradizionale. Erano gli effetti del passaggio repentino dall'Italia agricola all'industrializzazione neocapitalistica che finiva con il coinvolgere nell'ormai consolidata società dei consumi anche il sistema editoriale e il mercato culturale, il ruolo e la funzione dell'intellettuale umanista, nell'arco di tempo che chiudeva per via definitiva liquidandole o minandole estremamente la stagione dell'impegno e l'epoca delle utopie democratiche o rivoluzionarie. La mutazione antropologica individuata da Pasolini e le trasformazioni sociali e culturali in atto nel paese venivano interpretate da questi scrittori anche come un violento attacco alla civiltà dell'umanesimo e alla figura tradizionale dell'intellettuale. Il significato più vasso di questo mutamento che inaugura, come dirà Calvino, un prolungato periodo di non identificazione, di marginalità della ragione letteraria, vibra nei suoi risvolti anche esistenziali tra le righe di opere, lettere o dichiarazioni stese da questi scrittori tra gli anni 60 e 70 del secolo scorso. Basterà sfumare le differenze e i contrasti fra i toni utilizzati, ora profetici e sversanti, ora apocalittici e ormai indisponibili a un possibile futuro per afferrare come l'eco che sprigiona con i vesti di questa stagione sia comune e ridondante. Possiamo operare alcuni prelievi tra i tanti possibili e vediamo qui che alla desolata ma rabbiosa diagnosi di Fortini che tra poco leggeremo insieme si affiancano gli strali allarmati di Pasolini e d'altra parte le riflessioni lucide, i bilanci geometrici e pacati di Calvino e molto si potrebbe pescare quanto a Sciascia dagli aforismi polemici di Nero su Nero, il diario in pubblico che copre il decennio 1969-1979. Leggiamo Fortini datato 1967, è la prima citazione. Il presente è di diserzione non tanto dalla politica quanto da ogni finalità e questo si traduce in un accorciamento della previsione, in un rifiuto del progetto, insomma in una affascinata contemplazione della morte propria e altrui. Questo che seguo invece è un passaggio dall'ultima lettera luterana di Pasolini a Calvino che ricordavo prima. Scrive Pasolini, tu ti appoggi a certezze che valevano anche prima, le certezze che ci hanno confortato e anche gratificato in un contesto clerico fascista, le certezze laiche, razionali, democratiche, progressiste, così come sono esse non valgono più. Il divenire storico è divenuto e quelle certezze sono rimaste come erano e ancora si può citare dalla sua abbiura dalla trilogia della vita che esce nel mio 1975. Il crollo del presente implica anche il crollo del passato. La vita è un mucchio di insignificanti e ironiche rovine. Dunque io mi sto adattando alla degradazione e sto accettando l'inaccettabile. Manovro per risistemare la mia vita. Sto dimenticando come erano prima le cose. Mi è davanti pian piano, senza più alternative, il presente. Qui è Calvino che all'inizio degli anni Ottanta stendi un bilancio malinconico dei decenni passati. Leggiamo gli anni della mia gioventù a partire da 1945 e per tutti gli anni 50 e oltre hanno avuto come problemi dominanti i rapporti tra lo scrittore e la politica. Potrei dire che ogni discussione girava attorno a questo punto. La mia generazione potrebbe essere definita come quella che ha cominciato a occuparsi di letteratura e di politica allo stesso tempo. Negli ultimi anni invece mi è capitato spesso di preoccuparmi di come vanno le cose politiche e di come vanno le cose letterarie, ma quando penso alla politica penso solo alla politica e quando penso alla letteratura penso solo alla letteratura. Oggi affrontando queste due problematiche provo due sensazioni separate e sono entrambe sensazioni di vuoto. Il vuoto di un progetto politico in cui io possa credere e il vuoto di un progetto letterario in cui io possa credere. Per suo conto, vediamo qui Primo Levi, nonostante i premi e riconoscimenti ottenuti anche a livello internazionale, Levi scontava in quegli anni i segnali di una certa estraneità del sistema culturale o del campo letterario dominante nei confronti della sua opera, al prezzo di un incupito isolamento la cui parabola negativa progressivamente intrisa di pessimismo e disincanto giungerà al suo apice con i sommersi e i salvati. In effetti dopo la tregua che esce nel 1963 a fronte vero di un laborioso riconoscimento del suo mestiere di scrittore a tutto tondo, non soltanto veniva fraintesa, confusa o autocensurata la sua idea polivalente di letteratura, che dal nucleo della testimonianza di se questi un uomo sconfinava nelle tematiche del lavoro, la chiave a stella esce nel 1978, o della chimica, come nel sistema periodico, oppure sconfinava nei territori della fantascienza con i racconti di storia naturale e nella ripresa del romanzo storico di se non ora quando è il momento del 1982 e di questi anni più radicalmente la necessità travagliata di confrontarsi con i cambiamenti della sensibilità e con le nuove strategie ideologiche del mutato sistema culturale, ovvero con l'ormai capillare postmoderno tra influssi di post-strutturalismo e di pensiero debole e con la valenza politica delle sue estetiche, gli negazionismi, l'indifferenza alla verità, la sconoscenza, la chiama Primo Levi con questo cattivo neologismo, gli abusi della memoria, il controllo dell'oblio. Fortini, Pasolini, Calvino, Primo Levi, questi autori percepiscono durante gli anni 60 e 70 da una parte la sensazione di una perdita rovinosa e irreparabile del passato e dall'altra l'incombere o il ritorno di un presente opaco. Saranno diverse e a volte inconciliabili le risposte che essi daranno nelle loro opere a questa svolta epocale. La scrittura magmatica e neoespressionistica di Petrolio, il romanzo postumo di Pasolini, è effettivamente distante, lontana dalla misura classica ed essenziale dall'apparente nitore stilistico dei testi di questi stessi anni di Levi, Fortini, di Sciascia e persino del Calvino più combinatorio. Eppure va messo in rilievo un dato che accomuna le esperienze di scrittura di tutti questi autori che appartengono alla stessa generazione di Sciascia. Pur aggiunti da un successo quasi unanime di critica e di pubblico, e si tratta di un successo a volte tardivo, come nel caso di Sciascia o di Levi, si trovano divisi tra la fiducia e la sfiducia nella funzione sociale e conoscitiva della letteratura. Sono consapevoli che la letteratura è tutto il sapere umanistico, cominciano ad essere sempre più marginali nel sistema culturale colonizzato dai nuovi media e che la funzione dell'intellettuale muta radicalmente nella società italiana che dagli anni di Piombo si avviava al periodo del cosiddetto riflusso e del rifiuto della politica. E tuttavia questo disincanto, questo senso di solitudine che a volte, come si è potuto vedere, si colorava di tinte apocalittiche, conviveva nelle opere di alcuni di questi autori con una paradossale e mai dismessa tensione etica e comunicativa, civile o pedagogica affidata proprio alle forme letterarie. La loro idea di letteratura, nelle forme e negli esiti distinti che si assume in questi anni, prevede una rilettura innovativa della tradizione del moderno, senza rinunciare a quanto di quella tradizione, poteva essere ancora recuperato all'altezza del nuovo presente. Del resto, come ha ricordato il filosofo Roberto Mordacci, in un volume pubblicato da Einaudi nel 2017, lo vedete qui a sinistra, intitolato significativamente La condizione neomoderna, lo spirito critico e autocritico del moderno, vive da sempre nello statuto non definitivo ma processuale delle sue forme. Si nutre della natura aperta e riflessiva, di un pensiero che accanto alla fiducia nei valori laici emancipatori della scienza, dell'arte e della filosofia, è disponibile a rinnovarsi di continuo, procedendo a una costante reinvenzione della tradizione. E va tenuto presente che uno dei massimi interpreti della logica culturale postmoderna come Frederick Jameson insisteva sul concetto di una sostanziale sopravvivenza, di una permanenza più o meno sotterranea delle istanze moderne nella tarda modernità. Jameson invitava a rintracciare dentro le strutture formali e simboliche degli opere letterari il loro valore di resistenza e di alternativa di fronte ai postulati sulla fine della storia, sulla decadenza degli intellettuali o sulla scomparsa dello stile individuale, che invece si sono imposti con maggiore pervasività nei campi dell'estetica e dell'arte e nel senso comune dell'inconscio politico, dice Jameson, durante l'ultimo scorcio del Novecento. Gli ultimi grandi scrittori italiani moderni si presentano dunque come scrittori sperimentali, non aderiscono programmaticamente alle poetiche più o meno codificate come la nuovanguardia o il controverso postmodernismo, le correnti cioè che tendono a liquidare ogni rapporto serio e dialettico con la tradizione letteraria e con la ricerca della verità. operano invece una profonda rilettura dei classici e del romanzo moderno o modernista dal Settecento al Novecento italiano ed europeo, sperimentano nuove combinazioni tra le forme letterarie e i generi ereditati della tradizione e soprattutto avanzano ancora un'idea forte di letteratura, ciascuno con la propria postura intellettuale e identità di stile. Nel momento storico del suo declino istituzionale e della sua progressiva rilevanza sociale preservano della scrittura letteraria la ricchezza formale, l'intensità antropologica dell'immaginario, le potenzialità trasfiguratrici del reale e insieme la dimensione civile di critica o demistificazione dell'esistente. A questo punto possiamo accostarci più vicino a Sciascia, alle prese con il mutato contesto culturale, politico e sociale nell'Italia tra gli anni Sessanta e Settanta. Il suo laboratorio di scrittura a quell'altezza cronologica ci appare ancora oggi complesso e prismatico. Subito dopo il Consiglio d'Egitto, Sciascia sperimentava nei suoi racconti inchieste a sfondo storico, biografico e giudiziario una sorta di filologia morale attraverso cui riscrivere le latenze o le lacune della storiografia ricercando nei documenti una verità alternativa alla scrittura inganno della doxa del discorso pubblico e nello stesso tempo piegava le trame dei suoi gialli in una direzione sempre più allegorica, antropologica e politica dall'alto tasso filosofico, avviando a partire dal contesto un'indagine letteraria sulla recente realtà nazionale. Entrambi i poli della sua scrittura dialogavano con le forme e i ceneri della tradizione del moderno, rinnovandoli profondamente. Il romanzo storico, il pamphlet, il racconto inchiesta di ascendenza manzoniana, il giallo o il poliziesco, che alla fine degli anni cinquanta era già stato magistralmente riadattato, come sappiamo, da Carlo Emilio Gadda con il suo pasticciaccio brutto di via Meculana. Dal punto di vista morfologico la scrittura di Sciascia si sottraeva alle classificazioni o le tassonomie troppo rigide che tendevano invece a fissarla dentro uno schema sostanzialmente binario ma bloccato e fuorviante. Da una parte si mettevano i romanzi di invenzione o di immaginazione, gialli, il verosimile, il consiglio d'Egitto. Dall'altra le inchieste dalla morte dell'inquisitorio, appunto la scomparsa di Majorano e l'affermoro, come in un binomio chiuso, vocazione narrativa e saggismo, finzione romanzesca e documento, fiction e non fiction. Quando invece proprio le articolazioni, l'ibridazione, la reciproca dipendenza di queste componenti fermentavano nel tempo la sua scrittura. Lo sperimentalismo di Sciascia, la natura moderna o neomodernista della sua opera, lo portavano a realizzare congeni letterari il cui impatto polemico e conoscitivo derivava proprio dall'incertezza del loro statuto estetico. Nelle sue inchieste o inquisizioni la spinta alla riscrittura di eventi documentati si affidava a prima vista all'acribia filologica ed erudita, alla nuda e dura escursione delle fonti, all'abbassamento del tasso di funzionalità, demistificando le menzogne sedimentate negli archivi della storiografia ufficiale, restaurando una possibile verità delle vicende ricostruite dalla parte dei vinti. Quelle prove saggistiche, apparentemente lontane dalle strutture narrative e dagli intrecci delle prose di invenzione, si nutrivano di uno sdegno morale contro il potere che in realtà prendeva le forme ora del commento diretto dell'autore, ora dell'identificazione autobiografica e dell'immedesimazione con i suoi antieroi, ora dello scavo psicologico di quelle figure storiche. Senza rinunciare alla ricerca della verità e all'attendibilità polemica che caratterizzano la sua pratica letteraria, Shasha ricorreva a precisi schemi o procedimenti romanzeschi nell'animazione dei personaggi e nella cura dei dettagli. Si prende come esempio la scomparsa di Mario Rana che tra l'altro esce nel 1975 che è lo stesso anno del sistema periodico di Levi. Sullo sfondo del resoconto apparentemente obiettivo degli antefatti e delle vicende legate alla misteriosa sparizione del fisico nucleare, Shasha procedeva al montaggio e alla decifrazione assidua di documenti autentici, lettere, testimonianze verbali, all'analisi delle fonti e all'interpretazione intrinseca della sua indagine inferenziale secondo il modello appunto della manzoniana storia della colonna infame. Eppure, come è dato vedere non solo dalle polemiche scatenate all'interno delle conventicole scientifiche, ma soprattutto dai meccanismi che agiscono sul piano concreto della testualità, la ricostruzione dei fatti e il commento filologico, potremmo dire il vero, si intrecciavano con una serie di censure, manipolazioni, espulsioni e interpolazioni delle fonti, il falso. Shasha si impegnava in una riscrittura libera e associativa e in un'interpretazione intuitiva della vicenda narrata, che a partire dalla reticenza e dalla refrattarietà delle fonti in possesso dell'autore dava vita all'uso funzionale romanzesco dei fatti e degli stessi documenti, fino a prendere le forme nella conclusione di un vero e proprio giallo filosofico. Affidandosi all'interpretazione rigorosa ma obliqua e soggettiva della realtà testuale dei documenti e delle prove, pontando sulla forza trasfiguratrice ma più vera delle sincronicità e della parola letteraria, Shasha alludeva, come è noto, all'ipotesi che il fisico non si fosse suicidato e si trovasse recuso per sua volontà in un convento calabrese, come in un'esperienza di rivelazione, un atto divinatorio, se leggiamo insieme la parte quasi conclusiva della scomparsa di Majorana, nel momento in cui Nisticò ci diceva dell'inaspettata, insospettata, incredibile notizia che la lontana voce dell'amico gli aveva rivelata, noi abbiamo vissuto un'esperienza di rivelazione, un'esperienza metafisica, un'esperienza mistica. Abbiamo avuto, al di là della ragione, la razionale certezza che rispondenti o no a fatti reali e verificabili, quei due fantasmi di fatti che convergevano su uno stesso luogo, non potevano non avere un significato. Al di là del piano denotativo o detuttivo di una ricostruzione puramente documentaria, nella scomparsa di Majorana veniva alla luce la qualità polifonica o polisemica della sua scrittura. La vena riflessiva intorno ai dilemmi etici della scienza e sugli anni del regime fascista si univa alle tecniche e ai modi della narrazione biografica e saranno la superiore mistificazione della letteratura e la fantasia congetturale irradiata dagli eventi narrati a fornire, seppure nelle vesti dell'enigma, delle sincroniche coincidenze, come in giallo senza soluzione, il codice per avanzare una verità alternativa sulla vicenda, mettendo l'immaginazione al servizio del vero. Anche nell'affermoro la complessa trama intertestuale, un altissimo e singolare quoziente di letterarietà e di esperienti retorici, si intrecciano alla dimensione argomentativa della scrittura di Sciascia. Le citazioni, la memoria letteraria, come in tutte le sue opere, giocano in questo senso un ruolo fondamentale. Come in un palinsesso di scritture e in un dialogo incessante che parte dall'epigrafe, dai riascanetti, si trattava di momenti e figure richiamati alla mente del lettore in funzione di decretazione e di svelamento delle snodi più intricati del caso Moro. Si susseguono numerosissime citazioni, implicite, camuffrate o esplicite, tratti da autori cari a Sciascia e funzionali a racconto, in evidente attrito con i linguaggi del potere, i comunicati dei terroristi, i comunicati stampa, il linguaggio del non dire. Si trascorre da Pasolini a Pirandello e Giacomo De Benedetti, poi Edgar Allan Poe, Foscolo, Montale, Ungaretti, eccetera, fino alla chiusura dell'opera tratta da Borges, da Finzioni. Questa frase lascia capire che la soluzione è sbagliata. Il lettore, in piedo, rivede i capitoli sospetti e scopre un'altra soluzione, la vera. L'intarsio dei riferimenti intertestuali e il sistema associativo messo in moto del personale canone letterario cesciano sono sorprendenti. Questa sorta di letteratura al quadrato, o potremmo dire al cubo, che attraversa l'affer sin dalle prime pagine, dedicate come ricordiamo a Pasolini, si accompagnava al montaggio e allo smontaggio dei documenti relativi al caso Moro, assumendo così una funzione civile tendenzialmente performativa. Nell'affer, Sciascia affida a noi lettori il compito di sostenere lo sguardo sul lato tragico e mortifero del presente, rintracciandone le mosse rituali e quasi metafisiche del potere, e ricorreva per metterlo in chiaro non solo alle sollecitazioni che gli venivano dalla sua peculiare filologia morale, ma anche alla forza trasfiguratrice e conoscitiva della letteratura, al patrimonio di una nobile tradizione culturale. Per me, annotava Sciascia, e mi ho avuto piena coscienza da quando ho finito di scrivere sulla scomparsa di Majorana, la letteratura è la più assoluta forma che la verità possa assumere. Mi pare sia evidente la distanza tra questa idea di letteratura e le poetiche del postmodernismo italiano che stavano iniziando a influenzare tra gli anni 70 e 80 del 900 le opere narrative di Italo Calvino, di Umberto Eco, di Antonio Tabucchi e degli altri autori delle nuove generazioni. Il postmodernismo, come è stato detto, è una risposta difensiva e depotenziata della letteratura nel tempo del suo declino. Assumeva le forme di un manierismo, ora hilare, ora malinconico e consolatorio, nel quale le strategie eccitazionistiche e il dialogo con i modelli della tradizione restavano per lo più imprigionati nello spazio autoreferenziale del gioco letterario. Al contrario, la letteratura per Ciaccia continua ad avere una funzione polivalente. La memoria e la tradizione letteraria nutrivano la religiosità profonda che emana dall'affermoro, come nella scomparsa di Majorana riuscivano a penetrare nel dramma del personaggio, l'uomo solo, e nella tragedia umana e politica racchiusa nella vicenda. E soprattutto venivano piegate a una funzione conoscitiva, eminentemente pedagogica e civile. La letteratura, la tradizione letteraria, assolvono il compito di decifrazione, diagnosi, sintesi del reale, verso la possibile restaurazione della verità dalla parte dei vinti, degli offesi o dei sommersi. Come sappiamo, l'affaire è anche il frutto di un profondo turbamento. Ciaccia prende coscienza della capacità di certa letteratura nel prefigurare e precorrere in negativo la realtà storica. La letteratura viene vissuta nella sua natura di costruzione di mondi possibili, nel suo destino straniante ma attendibile di testimonianza, sintomo o documento. Ciò che si scrive accade. Oltre ai suoi gialli politico-metafisici degli inizi degli anni settanta, Ciaccia si riferiva alla scrittura corsara di Pasolini e in filigrana alla sceneggiatura anticipata della morte disseminata tra i testi della sua opera. Perché l'impressione che l'affaire Moro sia già stato scritto, che vive in una sfera di intoccabile perfezione letteraria, che non si possa che fedelmente riscriverlo e però riscrivendolo, mutare tutto senza nulla mutare. Lasciata insomma alla letteratura la verità, quando dura e tragica apparve nello spazio quotidiano e non fu più possibile ignorarla o travisarla, sembrò generata dalla letteratura. Coinvolto nelle consuete polemiche bellettristiche che circondavano l'uscita del panflet in quegli anni della storia italiana da lui definiti terribili, Ciaccia insisteva con candore sulla forza di verità che può contenere la parola letteraria, rivendicando tutto il potenziale antagonista della letteratura che non abdicava alla sua missione civile. L'ipotesi è verificabile inoltrandosi nelle strutture narrative e nei meccanismi formali del giallo politico-metafisico, dal contesto al critico degli ultimi anni di vita. Quella del giallo inteso come exemplum, apologo, parabola, trattato politico sulla storia d'Italia e una vocazione profonda della sua opera, come sappiamo, corre in parallelo e si mescola alla scrittura microstorica ed inchiesta, come dentro una officina sperimentale di scritture in cui si intrecciano e dialogano generi, temi, metodo o procedimenti ricorrenti. Quei libri erano proiettati a uno scandaglio vertiginoso del nuovo avvolto molecolare del potere e nella crescita esponenziale del loro valore allegorico producevano in forme narrative una riflessione sulla questione della giustizia e sulle vicende della storia italiana più recente. Sono saggi potenziali che si trasformano in racconti. Nelle strutture retoriche dei suoi gialli è possibile individuare il lavoro impuro che Shasha compie sulle forme letterarie codificate e allo stesso tempo il valore e la funzione civile che assume questo impegno di aggiornamento e di revisione intorno alla tradizione letteraria. Lo stesso stile di Shasha si svolge e si rinnova facendo registrare un innalzamento del tasso di figuralità fra complicazioni della sintassi, iterazioni, prolessi, inversioni, brachilogie, torsioni della punteggiatura e intensificarsi delle costruzioni intertestuali e retoriche in modo da rispecchiare sulla pagina gli scarti tra l'esperienza della realtà e il linguaggio letterario al grado massimo della sua contrazione formale e nei suoi turbamenti ritmici espressivi che dovrebbe decifrarla e narrarla secondo un suo celebre aforisma che recita la nera scrittura pessimisticamente sulla nera pagina della realtà. A emergere era la natura sperimentale della sua scrittura, delle sue scelte espressive al servizio di un sempre più problematico impegno pedagogico e civile. La descrizione di Pasolini dedicata a todo modo dalla quale siamo partiti ne traccia i confini alludendo alla visione quasi dantesca che Sciascia matura nei confronti del reale. Possiamo andare alla metà della citazione. Questo romanzo giallo metafisico di Sciascia scritto tra l'altro magistralmente è anche, credo, una sottile metafora degli ultimi trent'anni di potere democristiano, fascista e mafioso con un'aggiunta finale di cosmopolitismo tecnocratico. Si tratta di una metafora profondamente misteriosa come ricostituita in un universo che elabora fino alla foglia i dati della realtà. Al di là dei veri e propri luoghi comuni sulla fantomatica lacunicità, sulla presunta trasparenza dello stile di Sciascia, forse dovremmo ragionare con maggiore profitto sulla sostanziale polifonia, sul dialogismo della sua scrittura. Lo suggeriva Emanuele Zinato in un suo intervento durante una delle recenti letture Massimo Bordin. Dovremmo insomma insistere sulla natura volutamente sospesa, imperfetta e inconclusa delle strutture narrative e argomentative delle sue opere letterarie. Nei gialli Sciasciani registriamo la presenza di meccanismi simbolici e formali che è possibile ricondurre allo sperimentalismo che stiamo individuando come cifra unitaria della sua scrittura moderna o neomodernista. Lo svuotamento, il prosciugarsi della trama, la disarticolazione degli intrecci, la consecuzione enigmatica dei fatti narrati e il non finito si associavano a specifiche modalità retoriche come le ellissi, gli andirivieni temporali a scapito dei nessi causali e la messa in scena delle slogature, le fitte campate argomentative, le infrazioni della linearità narrativa, l'insinuarsi dell'indiretto libero del monologo interiore, facevano inclinare le forme brevi della sua prosa narrativa verso i territori del romanzo saggio. La vana ricerca della verità dei fatti, la sconfitta impossibile del male, ormai ramificato e pervasivo ben più dei crimini delittuosi narrati nei gialli tradizionali, si riflettono nel capillare rovesciamento straniante e parodistico delle modalità espressive codificate, nello svuotamento corrosivo di ogni pretesa a una verità pacificata, consolatore e rassicurante, che invece conteneva e contiene per statuto e convenzione il genere del giallo o del poliziesco. Come noto è un meccanismo parodistico e straniante che coinvolgeva per via esplicita anche i titoli antifrastici dei suoi gialli sulla soglia di quei testi. Quindi sappiamo tutti che il contesto avrà per sottotitolo una parodia, Il cavaliere e la morte, Sotì, scherzo. Di fronte alle manipolazioni e alla violenza mortifere del potere, tra complotti, omicidi seriali, depistaggi, fanatismi e diritti di stato, sciascia contrapponeva nelle sue parabole narrative una speculare decostruzione applicata al genere del poliziesco. Perché a vedere bene già nel giorno della civetta e poi vertiginosamente nel contesto, così come in todo modo, o nel cavaliere e la morte, la soluzione non è data, o meglio ancora il delitto rimane impugnito, depenalizzato e la trama di quei testi resta misteriosamente aperta e inconclusa. Nella sua opera letteraria, sempre più sospesa e imbilico tra romanzo e antiromanzo, tra narrazione e saggismo, sciascia continuava a tenere in vita e a rinnovare profondamente i modelli della tradizione. Ma il vincolo di partenza della sua scrittura è pur sempre di natura civile, la restituzione letteraria della presenza del male, dell'ingiustizia e dei riti del potere, che danno forma al lato oscuro della realtà. Sciascia continua a credere nel valore sociale e conoscitivo della letteratura, nella tradizione Dreyfusard dell'intellettuale moderno, che ha sempre avuto il compito di contrapporsi al potere. Se Pasolini in questi stessi anni si espone opponendosi pubblicamente al nuovo fascismo e all'universo orrendo della società italiana con lo scandalo del suo corpo e della sua opera multigenere, dal cinema al teatro di parola, dagli ultime raccolte poetiche a petrolio passando per gli scritti corsari e le lettere luterane, potremmo dire che Sciascia gioca le sue carte di intellettuale eretico e corsaro sul piano della provocazione e dell'intelligenza, un'intelligenza disorganica e spregiudicata, da sempre orgogliosamente stranea, a ogni forma di iscrizione, a una logica di gruppo o di partito, per il frattale alle ideologie così come alle poetiche letterarie esplicite o precostituite. Questa autonomia professata da Sciascia in sede di partecipazione politica alla storia a lui contemporanea nella sua stessa attività letteraria non va confusa con una indifferenza nei confronti della ricerca della verità. È il lettore dei suoi incialli ad essere investito dal compito di partecipare attivamente per congetture e approssimazioni successive alla ricerca di una soluzione non rivelata e mai definitiva. Come per la sua esperienza di riscrittura storica e giudiziaria, nella quale lo scrittore assorge o si riduce al ruolo di detective, derogando le regole convenzionali dell'inchiesta documentaria e chiama a noi lettori a partecipare attivamente alla ricerca del vero, così anche il lettore dei suoi gialli si troverà di fronte a congeni narrativi anomali e inclassificabili che infrangono la cosiddetta grammatica poliziesca e noi lettori saremo coinvolti nell'orizzonte dell'inchiesta tra complicati paradigmi iniziari e labili tracce di verità da decifrare e interpretare e qui sto pensando non solo ai finali aperti dei suoi gialli ma anche alle cicatrici, all'indizia, ai dettagli disseminati in quei testi come i rimandi alla cultura visuale, ne ha parlato da per suo Maria Rizzarelli nella prima lezione sciasciana, il fitto dialogo intertestuale, l'uso dei toponimi, degli antroponimi eccetera. Allora sto per concludere, questa operazione di riscrittura della tradizione letteraria del moderno dà forma all'inchiesta senza prodo della sua scrittura verità, un'inchiesta come abbiamo visto che prevede il coinvolgimento attivo del lettore nel processo ermeneutico e che si situa al di là di ogni facile realismo. Si ricordi la frase appunto di Pasolini, un universo, quello costruito dalle opere di Sciascia che elabora fino alla follia i dati della realtà. Vivere la consapevolezza del declino della tradizione umanistica, dell'esaurimento della tradizione del moderno non comportava una strategia difensiva all'insegna della chiusura o di ripiegamento della letteratura dentro i suoi stessi confini, così come esprimere i dubbi, i limiti e le sconfitte della ricerca della verità non significava arrendersi alla crisi della ragione. Qui Sciascia, mi pare di poter dire, si distingue ancora una volta dalla parabola discendente del suo amico Calvino e dalle poetiche del postmodernismo che prendevano piede in Italia tra anni 70 e 80. Affidare un primato conoscitivo alla funzione critica, liberatoria, sapienziale della letteratura, intesa in tutte le sue forme come codice o dispositivo col quale mettere in mostra il male, la violenza e l'ingiustizia che abitano in reale significava per Sciascia promuovere l'inquietudine del dubbio e non solo le esitazioni di una ragione in crisi. Significava incalzare il lettore sollecitando nell'angoscia nei confronti del presente e l'impegno nel decifrarlo e giudicarlo. La rilettura della tradizione del moderno e questo progetto letterario e intellettuale fuori da un realismo codificato diventano fino alla fine della sua vita gli strumenti elettivi per provare a coniugare sperimentalismo e tradizione, scrittura e impegno civile, utopie e disincanto. Davvero per concludere rivolgiamoci all'ultimo decennio della sua vita, della sua opera letteraria, ma davvero in breve. La confusione è una parola chiave disseminata da Sciascia fra i testi che compongono l'ultimo tempo della sua opera, dato da un modo al Cavaliere la Morte passando per l'affermolo è nero su nero. Qui vi ho inserito una citazione che proviene appunto dal finale del Cavaliere la Morte. Era la cifra provvisoria ed empirica per tentare di orientarsi nel mutato contesto del tempo. Dentro, scrive Sciascia, una più vasta e disperata visione delle cose italiane. Emergeva un senso di spaisamento dentro il quadro di una posizione radicale al proprio tempo, sempre sul confine di uno scetticismo assoluto che diveniva sgomento esistenziale, privato. Retrospettivamente a guardare la sua opera nella temperia culturale tra la metà degli anni settanta e la conclusione degli anni ottanta, è facile intravedere tracce che ne indicano l'affiliazione dallo spirito del tempo, con i suoi risvolti tragici e ancora irrisolti. È possibile riscontrare nella costrua dell'ultimo Sciascia un avvicinamento a quei resistenti presupposti ideologici che informavano certe residue e solitarie battaglie critiche del periodo, come era stato per l'ultimo Pasolini. Un pessimismo radicale, a tratti perentorio e apocalittico, che tenta di scartare dalle punte di moralismo risentito o dai rischi dell'isolamento individuale, ma in ogni caso sembra ormai insensibile ai progetti di realizzabilità del cambiamento o all'attesa alla promessa di futuro. Eppure Sciascia continuava a tenere vivo il dialogo con una nobile tradizione filosofica e letteraria, dall'illuminista Stendhal, da Manzoni e Leopardi, agli scrittori spagnoli, da Pirandello a Brancati, da Savinio a Borges, e pur turbato da un crescente pessimismo che arrivava all'ambiria anche il piano esistenziale della sua vicenda umana, rivendicava fino alla fine della sua vita una peculiare idea di letteratura intesa come sede o strumento di verità, uno spazio pubblico per esprimere l'ansia di verità e di giustizia. È una dolente e solitaria religione delle lettere in abiti civili che l'autore piegava o intrecciava a una lucida e impaziente ricommissione della materialità degli eventi, del destino dell'uomo e del nostro presente. Nel fitto di una tendenza alla solitudine che tuttavia non abdicava la militanza politica, il partito radicale, la commissione Moro e all'impegno civile, le polemiche giornalistiche, in un fondale apocalittico o malinconico di cose ultime nel quale si specchiavano la percezione delle trasformazioni del potere e i mutamenti nel campo della letteratura e dell'attività intellettuale, Shasha rispondeva con la sperimentazione innovativa di generi e forme e tipologie di pensiero che conservano un radicamento significativo nelle traiettorie della modernità. Una precisa idea di moderno in definitiva da intendere come attitudine a rinnovare la letteratura e a sperimentare nuove forme letterarie mantenendo ferma la loro funzione civile ed emancipatrice. Per tutto questo forse si può sostenere che è stato il nostro ultimo grande scrittore moderno. Vi ringrazio per l'attenzione. Siamo noi che ringraziamo te per questa bellissima lezione che ha collocato Shasha all'interno di questa generazione particolare veramente speciale degli scrittori nati negli anni venti ma ha anche sottolineato la sua originalità tutto sommato, la sua specificità perché insomma questa è la categoria dello sperimentalismo che tu hai molto giustamente evidenziato messa insieme direi alla sua capacità di continuare a credere nella letteratura ma nel valore civile della letteratura mi sembra che siano veramente una nota insomma una cifra originale anche rispetto al suo grande al grande nome di Pasolini insomma che forse non ha mantenuto questo parallelo diciamo parallelo a fiducia nella letteratura a un certo punto sembra quasi aver dovuto certo suo malgrado però rinunciare a questa idea insomma la scrittura non era più per lui quello che invece è rimasto per Shasha. Grazie ma ci sarebbero tante cose da dire ma non voglio invadere lo spazio per cui passo ora la parola Andrea Verri per la sua conversazione sul Consiglio d'Egitto impegno e la struttura. Andrea a te la parola. Grazie mille mi sentite sì? Mi senti? Mi sentiamo bene. Allora grazie mille anche al professor Moliterni che ha inquadrato perfettamente Shasha io mi occuperò di una cosa un po' più limitata che però diciamo dovrebbe essere in perfetta sintonia con quanto ha detto il professore. Allora nel Consiglio d'Egitto la parte finale del romanzo racconta sostanzialmente la cattura, la tortura e la condanna a morte dell'avvocato di Blasi perché aveva organizzato una congiura di tipo diciamo Giacobino e è probabilmente questo il momento della culminante della narrazione e anche della partecipazione emotiva da parte del lettore. Nel corso del racconto dell'ultima tortura inflitta di Blasi il narratore fa un suo raro intervento un suo raro intervento diretto. Lo leggo velocemente è molto famoso. Questo intervento nasce dai pensieri e dagli ideali del personaggio contrario alla tortura e la disperazione avrebbe accompagnato le sue ultime ore di vita se soltanto avesse avuto il presentimento che in quell'avvenire che vedeva luminoso popoli interi si sarebbero votati a torturare altri che uomini pieni di cultura e di musica esemplari nell'amore familiare e rispettosi degli animali avrebbero distrutto milioni di altri esseri umani con implacabile metodo con efferata scienza della tortura e persino i più diretti eredi della ragione avrebbero riportato la questione nel mondo. Si fa riferimento alla Shoah si fa riferimento al fatto che i francesi in Algeria in realtà anche in Francia durante la guerra d'Algeria praticarono la tortura. La questione è la traduzione del titolo francese la questione di un libro scritto da Henri Allègue. Henri Allègue era il direttore di Alger Repubblicain e viene catturato dall'esercito francese e torturato ad Algeria. È un libro che fa di denuncia che ha la del 58 esce prima in francese e poi in italiano per Reinaudi con il titolo La Tortura. Ha l'introduzione di Sartre. Ora vi sono delle somiglianze tra quest'ultima parte del romanzo di Sciascia e quanto scrivono Sartre nella sua introduzione e quanto scrive Allègue nel suo testo. Queste somiglianze le ho più o meno diciamo raggruppate in tre tipi. Quelle che riguardano chi pratica la tortura o comunque vi collabora, quelle che riguardano le pratiche della tortura e i loro effetti e quelle che riguardano chi viene torturato, cioè di Blasi e Allègue. Velocemente accenno al primo gruppo di somiglianze e leggo un passo di Sartre dall'introduzione di Sartre in cui dice nel 1943 in via Lauriston erano dei francesi a gridare d'angoscia e di dolore ma una sola cosa ci pareva comunque impossibile che si sarebbero fatti urlare altri uomini un giorno in nostro nome. Chiaramente si fa riferimento alle torture naziste fatte ai francesi durante l'occupazione nazista e durante la guerra. Interessante perché il commento precedente di Sciascia, cioè cui ho fatto precedentemente riferimento del narratore, nel Consiglio di Egitto ha di fatto una riscrittura di questa frase sartreana in quanto chi scrive nel presente racconta il passato e dal passato dice come allora ci si immaginava il futuro Sciascia o come allora fosse impensabile un certo futuro Sartre. In entrambi i casi oggi il presente è radicalmente diverso da ciò che ci si figurava, tanto da mettere in dubbio il senso delle lotte, delle sofferenze passate. Richiami ai nazisti si trovano anche proprio nella testimonianza di Galleghe perché gli stessi torturatori fanno riferimento alle torture dell'ASS o della Gestapo e è interessante perché anche in un altro volume di denuncia dell'anno seguente, quindi del 59, prima è uscito in Francia e poi è uscito in Italia sempre per i Naudi, la Tancrena, la Gangeran in francese, si racconti, sono le testimonianze di giovani algerini torturati a Parigi e anche i loro torturatori fanno riferimento ai nazisti torturatori. Non siamo però certi che Sciascia abbia letto, mentre siamo certi che ha letto il libro con l'introduzione di Sartre, non siamo certi che abbia letto l'altro libro, anche se tutto sommato è abbastanza probabile. Vi sono poi delle altre somiglianze che riguardano sempre i torturatori. Di Blasio osserva come sono degli uomini come lui, degli uomini normali e anche Sciascia nel commento del narratore osserva come questi uomini sono amanti della musica, sono esemplari uomini di famiglia. Alla stessa maniera Sartre nella sua introduzione dice quando eravamo noi francesi a essere torturati osservavamo i soldati tedeschi e si pensava eppure sono uomini che ci rassomigliano. Dopo pochi anni appunto i francesi, 15 anni, i francesi torturano e dice Sartre basta l'occasione a trasformare la vittima in carnefice sarebbe troppo fortuna se questi delitti fossero l'opera di un pugno di pazzi. Alla stessa maniera vi sono poi alcune di pazzi si girano quando vedono gli effetti della tortura sul corpo di Di Blasi e in un caso uno di questi giudici invita a far presto perché sente l'odore che gli dà della carne bruciata che gli dà il volto a stomaco. Alla stessa maniera un torturatore di Alleg dice di essere infastidito dalle urla di Alleg e invita gli altri torturatori a bavagliarlo e alla stessa maniera poi quando in un'altra occasione lui è vestito bene, il torturatore è vestito bene forse per andare ad una festa, quando ha l'impressione che Alleg stia per sputare si allontana sostenendo che non sia igienico. Quindi in entrambi i casi, sia nel testo francese che nel romanzo italiano, come dire, questi torturatori si preoccupano del loro fastidio e non della sofferenza dei torturati. Infine passiamo poi appunto al secondo gruppo di somiglianze, quello che riguarda le pratiche di tortura e i loro effetti. tutti e due, sia Di Blasi che Alleg, vengono catturati in un tranello. La cosa un po' strana effettivamente è che il tranello in cui cade Di Blasi tutto sommato non sembra molto motivato nel racconto, nel senso che i sbirri insomma vanno a casa sua, trovano la madre anziana, non lui che è impasseggiata e escono invece di aspettarlo dentro come sarebbe normale, tra l'altro dando la possibilità alla madre di bruciare alcune carte, escono e si nascondono per aspettare Di Blasi. Forse questa cosa che a me pare non del tutto motivata, proprio è dovuta al modello del tranello in cui cade Alleg. Sia Di Blasi che Alleg ad un certo punto hanno una fortissima sete, dice Shasha che Di Blasi aveva una sete disperata, vede di Blasi la cannata dell'acqua ma non ce la fa ad alzarsi, la vede da distante perché soffre troppo ad alzarsi a causa del fatto che gli hanno dato il fuoco ai piedi. Alleg, a causa delle scosse elettriche, ha la lingua, le labbra, la gola, le hanno seccate e a quel punto un aguzzino gli mostra l'acqua ma non gliela dà da bere apposta e chiama questa roba supplizio di tantalo. È interessante questa cosa perché Shasha praticamente disegna un supplizio di tantalo con Di Blasi nel Consiglio d'Egitto. Tutti e due ad un certo punto smettono di sentire in un qualche modo il dolore a proposito degli effetti della tortura e poi c'è una cosa molto interessante per quanto riguarda la partecipazione della medicina. Nel Consiglio d'Egitto l'ultima tortura a Di Blasi prima della, quando già è condannato a morte ma è previsto che debba fare un'ultima, debba sopportare un'ultima tortura. Il medico ci viene detto da vari personaggi è contrario all'uso del fuoco e propone l'uso, una tortura più lieve perché ha paura che muovia prima della condanna a morte. È interessante questa cosa perché probabilmente il medico non intende risparmiare dolore a Di Blasi ma semplicemente vuole che arrivi vivo alla condanna. Vi è quindi in qualche modo una partecipazione della medicina alla tortura ma piuttosto limitata. Cambia completamente il ruolo della medicina nel libro francese che Alegg praticamente viene sottoposto al siero della verità. Quando glielo danno glielo somministrano sostanzialmente lo portano appunto in, viene somministrato con un medico che quindi collabora pienamente e dopo averglielo somministrato gli cura le ferite insomma dovute alle torture precedenti. poi lo riportano una seconda volta in infermeria e non gli fanno niente, semplicemente lo curano. È interessante quello che pensa Alegg. Alegg pensa due cose che lo vogliono far star meglio o perché lo stanno per uccidere e quindi vogliono cancellare le prove della tortura o perché poi lo sottoporranno di nuovo tortura. È interessante questa cosa perché quindi nel novecento la medicina collabora nel novecento in cui dice Shasha la tortura ormai è elemento dell'esistenza, lo dice non più elemento del sistema giuridico, lo dice nel commento che vi ho letto prima del narratore, la tortura elemento dell'esistenza perverte di fatto la medicina in maniera molto più forte di quanto possa fare nel settecento e non solo ma è la medicina che rischia di realmente di far sì che la la tortura diventi l'esistenza perché se si può torturare una persona con la medicina farla star bene e poi di nuovo torturarla di fatto si immagina una tortura che non ha mai fine che diventa l'esistenza grazie alla medicina. Del resto Shasha lo dice la la tortura nella contemporaneità è fuori dal sistema giuridico e quindi ovviamente è è incontrollabile mentre durante il sistema giuridico se è parte del sistema giuridico è controllabile. Questa cosa Shasha l'ha ben presente siamo sicuri perché lui è come ci ha ricordato prima il professore un grandissimo lettore, rilettore se vogliamo anche più o meno imitatore diciamo della storia della colonna infame di Manzoni e nella storia della colonna infame il secondo e il terzo capitolo sono dedicati da Manzoni a dimostrare che c'erano gli strumenti giuridici diciamo da parte del sistema in vigore fino al 1600 che avrebbero dovuto impedire che accadesse quello che poi è successo con gli untori. Del resto ovviamente nel Shasha va ben presente nel sistema giuridico dopo la rivoluzione francese, dopo l'antico regime, dopo l'illuminismo, la tortura non può che essere fuori dal sistema giuridico. La presenza della medicina quindi nel settecenti nel racconto che fa Shasha inevitabilmente ci richiama quello la presenza della medicina nel testo di Alleg. Passiamo all'ultima diciamo gruppo di somiglianze che ho individuato ed è quello che riguarda i torturati ed è la parte più bella, forse c'è più appassionante del Consiglio d'Egitto che è un romanzo che coinvolge molti lettori soprattutto in quest'ultima parte. Di Blasi resiste, lui dice ottenuto e dice esattamente come Alleg, Alleg resiste alla tortura. Di Blasi dice io resistendo insieme agli altri che hanno resistito appartendo la dignità umana, Sartre nell'introduzione dice che Alleg, che i torturati francesi durante la Seconda Guerra Mondiale che resistevano non giudicavano, non si permettevano di giudicare i quanti non resistevano ed è esattamente ciò che fa Di Blasi. Di Blasi ha pietà, ha rimorso per quei torturati che lui stesso ha coinvolto e ha rimorso di averli coinvolti perché non erano in grado di resistere alla tortura, perché si odieranno per non aver resistito e perché odieranno Di Blasi per averli coinvolti. Sartre nella sua introduzione dice che Alleg con la sua resistenza, con il racconto della sua resistenza, garantisce, testimonia che è evitabile il predominio dell'inumano, cioè della tortura a cui tutti rischiano di soccombere, di cui tutti possono macchiarsi. Alleg permette ai francesi di ritrovare, cito, un poco della nostra fierezza, dimostra che la tortura, cito, è solo un crimine ignobile e lurido che altri uomini ancora possono e debbono reprimere. Sartre dimostra, cioè questo discorso di Sartre evidentemente richiama la dignità umana di Di Blasi. Alleg nella sua testimonianza dice incontrando i torturati di essere fiero e di sentire la solidarietà, l'amicizia e la fiducia da parte degli algerini torturati come lui che incontra, che incrocia a volte nel luogo in cui è detenuto. E dice proprio di essere esaltato dal pensiero che andavo alla morte come mi ero sempre augurato, fedele al mio ideale e ai miei compagni di lotta. Questa frase potrebbe tranquillamente riferirsi a Di Blasi, a esser detta da Di Blasi, anche se in Di Blasi il senso di trionfo è decisamente, di fierezza, è meno presente, diciamo, perché effettivamente lo spazio che dedica a chi ha resistito e lo spazio di pietà che dedica a chi non ha resistito è più o meno lo stesso. Di Blasi non incontra nessuno nel carcere, ma è interessante, non incontra compagni, in realtà non incontra uno a distanza. Appunto Alleg dice che quando incrocia i suoi algerini sente la loro solidarietà, l'amicizia, la fiducia, si dice fiero di stare dalla loro parte. C'è un incontro simile nel Consiglio d'Egitto. Nel Consiglio d'Egitto Di Blasi è bella, si salutano da distante, bella è nel tetto, siamo alla fine del romanzo, in uno degli ultimissimi capitoli, si salutano da distante perché hanno avuto tramite un intermediario la notizia che Vella voleva salutarlo. Vella è una specie di sodale, diciamo, alla fine del romanzo è ormai un amico e tutto sommato è vicino a Di Blasi. Si salutano da distante e dice Vella che vedendolo da basso, vedendolo dall'alto, gli parve riacquistare la sua statura e in un qualche modo un riconoscimento e come Alleg riconosceva la solidarietà, l'amicizia, la fiducia e in un qualche modo si sente fiero, in un qualche modo anche qui il personaggio nell'incontro acquisisce, diciamo, questa caratteristica. Qui siamo alla fine del romanzo, Di Blasi è nel cortile e sta per montare nella carrozza e poi verrà portato dove verrà torturato l'ultima volta e quindi poi giustiziato. È interessante perché Alleg nel penultimo capitolo della sua dichiarazione racconta quando nel cortile dove viene tenuto, dove viene recluso e torturato, vede una macchina allontanarsi con dentro il suo amico Oden che verrà ucciso e quindi la cosa è molto simile a quanto poi racconta Shasha e alla fine, proprio nell'ultimo capitolo, Alleg racconta dell'esecuzione nel cortile di tre algerini. Tutti e due sono molto lucidi poi nell'affrontare la situazione, hanno sempre il controllo razionale della situazione e cercano di resistere al dolore. Con cosa? Con il ricordo, con il ricordo di ciò che hanno letto, con il ricordo anche di alcune cose della loro vita, soprattutto di Blasi e adesso vi dico le varie cose perché non c'è il tempo, comunque dice Sartre parlando di Alleg era che dimostra calmo coraggio, modeste e lucidità ed è esattamente lo stesso comportamento di di Blasi. Tutti e due fanno riferimento alla memoria, cercano di ricordare e di mantenere il controllo razionale. Ovviamente di Blasi ricorda dei poeti, proprio si usa strumentalmente la memoria per resistere al dolore dei poeti. Alleg no, è in linea con il tipo di personaggio che sta costruendo Shasha, ovviamente concentrarsi sul ricordo di poesie e anche con alcuni aspetti metaletterali che ci sono nel romanzo e sicuramente ci sono altri modelli, altre fonti a cui sta pensando Shasha per il ricordo di test di poesie, probabilmente Julien Sorel del Rosso e Nero. Julien Sorel quando è condannato e sta aspettando di fatto ricorda poesie che ha imparato in più occasioni e dice ah ecco una cosa divertente, da quando devo morire tutti i versi imparati nella mia vita mi tornano alla memoria. Bene, per quanto riguarda questa prima parte concludiamo con un aspetto molto generale. Sartre nella sua introduzione dice che i lettori si incarnano in Alleg, lo accompagnano nel passo estremo della sofferenza e si domandano cosa avrebbero fatto loro e questo è proprio ciò che fa Shasha nel racconto della tortura di Di Blasi, fa sì che il lettore lo accompagni e si domandi cosa avrebbe fatto lui e si immedesimi con loro. Bene, allora questa è la prima parte dell'intervento in cui ho confrontato questi due testi. Adesso vorrei un attimo riflettere su che cosa può dirci questo confronto del tipo di romanzo che è il Consiglio d'Egitto. Il Consiglio d'Egitto è un romanzo storico, vuole essere un romanzo storico, è un romanzo con tratti saggistici come tutta la narrativa e Shasha è in un'occasione quando vuole fare un esempio di come la sua narrativa è saggistica, fa riferimento al Consiglio d'Egitto, fa proprio riferimento al richiamo alla guerra d'Algeria. I critici che hanno studiato questo romanzo, due dei più importanti, Ambroise e Traina, hanno individuato che comunque questo è un romanzo storico molto particolare, non è il semplice risultato di invenzione e storia, è una reinvenzione del romanzo storico, sia Traina che Ambroise lo dicono e in modo particolare Ambroise poi dice che nel falsario Vella, Vella è chi sostanzialmente reinventa due codici, uno del periodo arabo, uno arabo-normanno e lì praticamente uno è una falsificazione di un codice che però si occupa di tutt'altro, l'altro proprio per la reinvenzione di un codice, ok? E fa dei falsi, è stato notato già, e Ambroise sicuramente uno dei più bravi ad individuarlo, individua che nella figura di Vella Shasha rappresenta la fantasia che grazie alla promozione del linguaggio, il significante, può fagocitare il reale. La fantasia in Vella si esplica nell'aggressione dei segni del linguaggio, in pratica Shasha raffigura, come già detto anche altri critici, in Vella quello che sarà la sua pratica letteraria, cioè la letteratura, come ha detto prima il professore, come riscrittura, come reinvenzione di testi, ma che è in grado di interpretare profondamente il reale, quasi di reinventarlo, di fatto è così, di arrivare alla verità però, e senza mai abbandonare ovviamente l'aspetto, diciamo, etico e morale della letteratura. Ora, per quanto riguarda quello che abbiamo detto, cioè il fatto che il rapporto tra il libro francese, il Consiglio d'Egitto, possiamo dire che il Consiglio d'Egitto sembra essere, in quelle parti in cui abbiamo parlato, una riscrittura del testo francese e quindi rientra perfettamente questa pratica letteraria nella pratica, nella teoria letteraria Shashana di riscrittura dei testi, che sarà marcata, evidente, ribadita e praticata soprattutto negli anni 70, negli anni 80, ma che viene già messa, diciamo, raffigurata in Vella nel Consiglio d'Egitto e in realtà anche già praticata nel Consiglio d'Egitto, non solo per questo caso, in realtà, che ho messo in evidenza io, perché già nel Consiglio d'Egitto ci sono pratiche di riscrittura già notate da altri studiosi. Traina osserva come in realtà appunto già nel Consiglio d'Egitto sia la pratica scrittoria sia più avanzata della teoria. Cioè Shashana nei saggi sul romanzo storico e sul gatto pardo, che sono più e meno coevi a quelli alla scrittura del Consiglio d'Egitto, è più conservatore, più e meno avanzato rispetto alla pratica che hanno il Consiglio d'Egitto. Nel saggio nel saggio Verga e il Risorgimento dice Shasha del romanzo storico. Il passato vi è rivissuto in funzione del presente, passato che si fa presente e quindi, diciamo, normalmente i promessi sposi. In realtà possiamo dire che con questa riscrittura di sicuro, è vero quanto dice Traina, Shasha è più avanti nella pratica, perché nel momento in cui riscrive di fatto il testo di Alleg, non è tanto il passato che si fa presente, ma ancor più il presente con la riscrittura si fa passato, si scrive un testo del presente per raccontare il passato e quindi avviene quel lavoro di aggressione alla lingua e si fagocita la realtà. Quindi, in realtà, la citazione nascosta del titolo tradotto dal francese in italiano che abbiamo visto e la riscrittura precisa di quella frase di Sartre, su cui abbiamo già fatto riferimento prima, diventano quindi degli indizi di proposito lasciati che spingono a considerare il racconto della fine della vita di Giblasi come una riscrittura, lasciati di proposito dall'autore. Per il resto, questo momento culminante, vi si potrebbe condensare il senso del romanzo che individua Traina, un grumo di speranza che, malgrado tutto, l'autore si sente ancora di comunicare al lettore. In realtà, il grumo di speranza non è tanto nel contenuto del commento del narratore, ma nel fatto stesso che il narratore si ponga e faccia il commento, cioè se oggi c'è una voce che denuncia la tortura, pur parendo la tortura totalizzante, allora esiste la ragione perché qualcuno la pone e la dice. La letteratura è comunque sempre collegata all'impegno e adesso vorrei affrontare questo aspetto facendo riferimento ad alcuni testi che sono successivi di una decina d'anno al Consiglio d'Egitto. In particolare, un testo di un appello al voto del 75 per il Consiglio Comunale di Palermo. Nel 75, Sciascia si candida nelle liste del PC come indipendente per il Consiglio Comunale di Palermo. Dopo poco si rimetterà in polemica perché non è soddisfatto della situazione, credeva fosse diversa e non lo era, e però al momento delle elezioni fa un appello molto bello in cui spiega il motivo per cui si candida e per spiegarlo dice devo farvi la storia dell'impegno degli intellettuali e quindi racconta il jacuzzi di Solà e dice che Solà raccoglie con questo appello la parte migliore degli intellettuali francesi e dice anche che in realtà con questo Solà si opponeva a quella Francia che, dice Sciascia, la sua generazione ha avuto ancora modo di vedere durante la Seconda Guerra Mondiale, cioè la Repubblica di Vichy e dice Sciascia anche durante la guerra d'Algeria e quindi questo testo in cui si teorizza l'impegno degli intellettuali praticamente fa riferimento all'Algeria. Dice Sciascia in questo testo però attenzione, dopodiché all'intellettuale è stato dato il ruolo di segnalazione di avvertimento ma dice Sciascia non è che gli intellettuali capiscono meglio degli altri, semplicemente dispongono degli strumenti per esprimere, per rappresentare e dei mezzi per diffondere ciò che tutti capiscono e definisce, dopodiché dice appunto, fa riferimento ad un episodio che gli è capitato per dimostrare che quindi tutti capiscono quello che anche gli intellettuali capiscono, un episodio con un portiere e poi definisce gli intellettuali candidati col PC perché poi in realtà sono anche in altre liste in quell'anno, nel 75, anche altri intellettuali non necessariamente strettamente legati alla sinistra come altri, insomma appoggiano o si candidano alle liste del PC. Dice questi intellettuali sono, leggo, parte di quelle radici da cui sorge quella che De Sanctis chiamava quella grande abbreviazione del pensiero umano che è nella vita del popolo. Fa riferimento allo stesso passo a cui aveva fatto riferimento negli anni Sessanta in Verga e Risorgimento per spiegare l'importanza di Verga. Dice Verga era fondamentalmente come belli idee conservatrici ma ottiene il risultato di portare il popolo dei diseredati nel flusso della storia ponendolo nella luce della poesia come problema storico nella coscienza della nazione e dell'umanità. Shasha rivendica dunque un ruolo all'arte grazie ad essa, ai suoi mezzi, si porta a coscienza e quindi annoda la letteratura e l'impegno nella sua esperienza. E così va interpretato il commento del narratore alle vicende di Blasi. Nell'appello del 75 Shasha non fa riferimento al... fa un riferimento veloce ovviamente all'Algeria fa riferimento ovviamente al fatto che anche altri intellettuali invece seguirono Zola nell'Ottocento e... è interessante perché? Perché in realtà anche per la vicenda di Algeria gli intellettuali presero opposizione innanzitutto gli intellettuali francesi con il manifesto dei 121, manifesto appunto con il quale si... un manifesto firmato anche da Sartre e da Maurice Nadeau che per coincidenza poi dal 66 sarà l'editor di Shasha e sostanzialmente si... si sostiene la necessità della non collaborazione alla guerra. Il manifesto nasce nell'ambiente della... vicino alla rivista di... di Sartre. Alcuni intellettuali che l'hanno firmato, francesi, verranno poi... perderanno il posto di lavoro, verranno licenziati, quindi subiscono delle ripercussioni pesanti. È interessante, Shasha ha sicuramente presente questo manifesto perché nel 60, in tempo presente di Chiaromonte e Sirone, viene pubblicato un appello che si chiama Diritto alla Resistenza a dichiarazioni di solidarietà con gli intellettuali francesi, nel quale appunto si difende il diritto alla disobbedienza ai comandi ingiusti e si manifesta solidarietà con gli intellettuali che, avendo firmato il manifesto di 121, hanno avuto delle... delle ripercussioni punitive, repressive. Dice il manifesto pubblicato nella rivista italiana che sostanzialmente vi è il diritto alla disobbedienza di fronte a degli ordini criminali e che questo problema si pone in tutti i regimi, sia in quelli occidentali, sia in quelli di là dalla cortina di ferro, sia in quelli... i regimi totalitari fascisti e nazista. Nel Consiglio... è interessante perché nel Consiglio d'Egitto c'è un caso di rifiuto ad obbedire ad un ordine. Il Principe del Cassaro viene incaricato da Monsignor Lopez di andare ad arrestare Di Blasi. Il Principe del Cassaro si rifiuta di andare per amicizia, ovviamente non per motivi ideologici, dice di essere d'accordo con i motivi per i quali debba essere arrestato Di Blasi, ma si rifiuta. Sarebbe quindi un caso diverso da quello novecentesco di rifiuto all'ordine, però probabilmente viene, come dire, modellato sullo stesso problema, cioè quello novecentesco, perché? Perché Monsignor Lopez si infuria, ovviamente, per il rifiuto e dice, non capisce, cito, perché un uomo dovrebbe privarsi del piacere di annettare un altro uomo. Perché, pensa Monsignor Lopez, vuol dire che allora questa persona che si è rifiutata ha la stessa colpa di chi non vuole andare ad annettare. In realtà il termine annettare ci richiama inevitabilmente il novecento, tant'è che Shasha nel commento del narratore per i nazisti usa il termine distruggere, e poi è interessante come non solo questo, ma anche dopo il Principe del Cassaro, dice Shasha, si specchia nel suo gesto di fedeltà all'amicizia, si specchia commosso, il Consiglio d'Egitto è anche un romanzo sull'amicizia, ma inizia a provare il Principe del Cassaro su sulti di apprensione e rifrazioni di paura, perché teme che il suo gesto possa avere delle ripercussioni. L'insinuarsi, anche l'insinuarsi della paura, francamente, ci richiama regimi totalitari. Nella guerra d'Algeria, quindi è presente nel testo del 75, abbiamo detto è presente nel Consiglio d'Egitto, è presente anche nel 64 in una breve nota giornalistica di viaggio, su un viaggio fatto da Shasha, appunto nel 64 in Francia. Evidentemente il problema gli è ben presente. Gli è presente il problema, l'ha colpito molto questo fatto delle torture d'Algeria, e capiamo anche perché basta rileggere il commento del narratore. Nel commento del narratore non si dice i francesi torturano, si dice i più diretti eredi della ragione, che è un modo per far sì che il lettore si soffermi su chi sono questi diretti eredi della ragione, sono i francesi, non nominandoli, far sì che il lettore si venda conto che addirittura appunto lì dove è nato l'illuminismo si continui a torturare. È più o meno lo stesso ragionamento che fa Sartre, solo che Sartre dice ovviamente, essendo francese, avendo vissuto l'esperienza della presenza tedesca in Francia, dice ovviamente, fa riferimento all'esperienza nazista e non all'illuminismo. Sciascia lo racconta dal suo punto di vista e quindi deve prendere l'illuminismo. Prende l'illuminismo, in realtà aggiunge un elemento, cioè a questo punto il quadro che tratteggia Sciascia è forse più peggiore di quello che tratteggia Sartre perché aumenta, individua un altro elemento che in teoria avrebbe dovuto impedire il ritorno della tortura. nel testo del 75, nell'appello al voto, il testo al voto non presenta il riferimento a Sartre nell'appello al voto del 75 ed è anche comprensibile visto che si tratta di un appello elettorale, non può fare troppi esempi ovviamente. Ritorna però subito dopo Sciascia in un altro testo, meno noto, è una risposta sempre del 75 di Sciascia alle reazioni che ci sono state ad un appello per il voto, che è probabilmente lo stesso appello di cui parlevamo prima. In questo testo del 75 richiarisce le sue idee sugli intellettuali, sugli impegni, sono le stesse idee che dice più o meno in nero su nero che è più o meno coevo e ribadisce uno che in Italia l'intellettuale è ritenuto un fragile e prezioso imbecille, cioè in Italia l'intellettuale non deve occuparsi di nulla e non deve far danni e quindi Sciascia rivendica la possibilità di impegno invece per gli intellettuali. Dice che l'atto che fa lui e gli altri intellettuali a favore delle liste del PC del 75 è un atto disinteressato e quindi indipendente ribadisce la sua coerenza tra ciò che ha scritto e ciò che sta facendo candidandosi col PC perché dice se qualcuno pensa in base a ciò che ho scritto che io non dovrei ora candidarmi col PC vuol dire che non ha capito niente di quello che ho scritto, io non rinnego, dice lui, nemmeno una virgola delle mie eresie. Quindi ribadisce la sua coerenza e dice mi sto candidando col PC e questo va avanto del PC perché il PC vuol dire che è sostanzialmente più democratico ed effettivamente Sciascia in quell'occasione lì è convinto che nel PC in Sicilia, adesso che c'è occhetto, sostanzialmente allora quando c'era occhetto ci fosse un maggiore spazio di manovra, poi cambia idea probabilmente ma non importa. Sempre in questo testo del 75 cita Manzoni e ironicamente che in due volte e tiene a ribadire che non sta citando Brecht, chiaramente di nuovo per ribadire l'impendenza e l'autonomia nella scelta dei suoi strumenti culturali rispetto all'autonomia e a quanti si dicono di sinistra. Non fa riferimento a Sartre nell'appello al voto per i motivi che abbiamo detto, probabilmente però ha sicuramente negli anni 70 ha ormai maturato una certa distanza rispetto a Sartre e lo dice chiaramente nell'81 in un'intervista all'Aiolo molto famosa dice che a Sartre riconosce la generosità, la sua generosità nell'errore, nello sbagliare, ha dato questa generosità alla nostra generazione, ci ha fatto sbagliare tante cose, possiamo ricrederci ma non rinneghiamo quella generosità sua e nostra. Il termine generosità è un termine sartreano però e compare il famosissimo saggio di Sartre, molto bello, che si chiama Che cos'è la letteratura? Questo saggio però appare in edizione, prima edizione, è pubblicato dal saggiatore tuttora, la prima edizione del saggiatore è del 60, sono gli anni del Consiglio d'Egitto. Cosa intende, adesso spero di spiegarlo, adesso che non sono forse bravissimo, cosa intende Sartre con generosità? Il rapporto tra lettore e scrittore che conduce alla radice morale, della scrittura. Scrivere implica la libertà dell'artista e di chi usufruisce dell'opera, la quale si realizza completamente solo se letta. Scrivere è un appello e fiducia reciproca dei due attori, cioè lo scrittore e il lettore, e rivela il mondo, che a sua volta si rivela nell'azione, per cui lo scrittore pone, anche suscitando indignazione, le ingiustizie perché vengano superate. L'intervento del diretto del narratore nel Consiglio d'Egitto è di vent'anni prima rispetto all'intervista alla Iolo, però dimostra sicuramente una incisività particolare e contiene una riscrittura sartreana, come abbiamo detto, per cui è un po' difficile immaginare che non risenta del saggio che cos'è la letteratura di Sartre. E a ben vedere, in questo saggio appunto, Sartre si concentra sull'appello, sulla generosità, sulla fiducia reciproci tra lettore e scrittore. Essi sono centrali e riconducono all'impegno per cambiare il mondo. E effettivamente, se ci soffermiamo un attimo di nuovo sul commento del narratore, ecco che scopriamo che questo intervento diretto del narratore interrompe la narrazione e quindi automaticamente si rivolge al lettore. E quindi un invito rivolto espressamente al lettore è esattamente un appello al lettore, un atto di fiducia in lui, un atto di generosità e esprime la volontà e l'invito a cambiare il mondo insieme allo scrittore. Ecco allora che tutto sommato ci sembra di poter capire che l'influenza di Sartre sia ben presente nel Consiglio d'Egitto, al di là della riscrittura del testo con l'introduzione di Sartre. Attenzione, in che cos'è la letteratura? C'è anche in realtà ciò che a Shashan non va più bene negli anni 70, di sicuro, forse anche prima di ehm finisco di ehm della concezione dell'impegno eh Sartreano ed è chiaro che cos'è eh se l'impegno Sartreano è inteso come disciplina di partito e quindi non è rivolta alla libertà e al senso morale che dovrebbero far tutt'uno con la letteratura diventa dannosa per Shashan. Dice Sartre in che cos'è la letteratura che eh si può domandare allo scrittore perché hai parlato di questo piuttosto che di quest'altro e dal momento che parli per cambiare perché vuoi cambiare questo piuttosto che quest'altro? Se ci pensate un attimo eh le polemiche a cui è di fatto a cui a volte si espone ma a cui a volte viene di fatto costretto Shashan a partire dagli anni settanta a partire dai suoi romanzi come il contesto o eh da suoi posizioni pubbliche come quella sui giudici popolari del processo di Torino per le DR o quella per esempio per la farmia Moro sono proprio polemiche che nascono da attacchi simili al passo di Sartre in cui si chiede a Shashan conto di ciò che ha scritto o che finito. Grazie anche a te Andrea di questa lettura suggestiva di una ehm intertestualità ulteriore rispetto a a così a tutti gli autori che in genere colleghiamo a Shashan e e così tu hai aggiunto insomma anche una nota una nota diversa e approfondito questo aspetto su cui c'è possibilità di discussione di dibattito per cui chiederei ecco a qualcuno del pubblico o anche ai colleghi insomma che sono presenti se vogliono intervenire se vogliono appunto dire qualche cosa partecipare alla discussione io eh cederei volentieri la parola ad altri sì non abbiamo dei social domande quindi sono i che collegato con noi sulla piattaforma potrebbe intervenire e parlare con i due relatori anche con il professor Moliterni Ricciarda scusa io stavo cercando di avviare il video ma me lo dà come disattivato dall'amministratore quindi volevo anche chiedere di intervenire ma non funziona il video allora vediamo se ti viene riattivato chi parlava si aspetta che rispondo un attimo Alessandro Cinquegrani e poi abbiamo Carlo Forte ecco qua bene Alessandro poi Carlo Forte a te Alessandro Sì allora vi ringrazio per questi interventi secondo me molto interessanti molto stimolanti ci sarebbero tantissime cose da dire e di cui discutere e volevo fare una domanda sia a Fabio Moliterni sia ad Andrea Verri allora ho trovato molto interessante nell'intervento di Fabio l'idea anche di contestualizzare all'interno del contesto novecentesco appunto di grandi categorie devo dire che rispetto cioè come parere personale direi sarei forse meno tranchando il giudizio negativo rispetto al postmoderno perché forse bisognerebbe capire come mai in Italia il postmoderno forse non abbia avuto così tanti esiti positivi però insomma nel mondo penso che abbia avuto in America soprattutto degli esiti eccellenti e molto interessanti però la cosa che ho notato particolarmente è che tu hai usato molte volte termini come etica serietà, responsabilità che sono ovviamente termini importantissimi per Shasha e per tutta l'epoca moderna ecco mi sembra che sempre per ritornare poi al tema dell'attualità di Shasha che questi termini siano ritornati molto in voga molto di moda negli anni duemila ecco quindi volevo chiedere se tu pensi che l'eredità di Shasha poi sia in qualche modo raccoglibile da alcuni degli autori diciamo della stretta contemporaneità ecco quindi questa è la domanda che volevo fare a te e poi invece una piccola cosa che volevo chiedere ad Andrea che un po' si lega a questo e allora tra le tante cose che hai detto interessanti adesso io ovviamente non vado nel dettaglio magari spero che avremo l'occasione di riparlarne perché alcuni temi come appunto anche il rapporto tra razionalità e tortura anche nella cultura francese se penso a Bataille, Klosowski cioè ci sono molti autori da aggiungere diciamo all'elenco però appunto volevo chiederti una piccolissima cosa probabilmente perché mi è colpito quando tu ricordavi quella osservazione di Shasha durante la sua candidatura politica in cui diceva che tutti capiscono diciamo alcune cose ma non le sanno esprimere e mi veniva in mente l'io so di Pasolini che invece dice una cosa completamente diversa cioè lui dice io so perché sono un intellettuale ed è magari un dettaglio però anche un modo di vedere forse di concepire la società molto diverso e volevo chiederti insomma le cose si intrecciano anche volevo chiedere a voi un parere su questo grazie allora grazie a te ovviamente ho dovuto esemplificare sappiamo come il dibattito su queste categorie è infinito e direi anche abbastanza stucchevoli ormai e sicuramente io ho proprio tenuto a precisare il postmodernismo italiano ha una diciamo ricaduta anche credo negli effetti proprio sulle opere letterarie di tipo moderato o comunque come dire inferiore ai grandi scrittori americani diciamo io credo che tu ti riferissi per dire solo due a Filippo Rotto a Don De Lillo che dagli anni Ottanti in poi è come se continuano a piegare la letteratura anche in un modo come tenevo a precisare visionario non strettamente realistico e comunque la legavano ad un tentativo di interpretare la storia americana dal passato fino al contemporaneo e poi invece diciamo sul discorso dell'eredità di Sciascia anche su questo direi che dovremmo fare forse una lezione o comunque un approfondimento a sé sappiamo tutti come in questi ultimi anni zero io ho citato diciamo Gomorra di Saviano si fa un gran parlare sul ritorno alla realtà l'impegno addirittura con anche qui neologismi diciamo poco cacofonici neo-neorealismo eccetera il discorso è che chiaramente dobbiamo sempre per storicizzare come dicono anche molti critici e molti interpreti di questi nuovi fenomeni rispetto anche per esempio alla ripresa del non fiction novel il nuovo è stato giustamente in alcuni saggi anche di studiosi giovani fatto il nome di Sciascia cioè non è che si inventa dal nulla il non fiction novel questa ibridazione tra saggismo narrazione sia perché ci sono dei riferimenti europei che oggi tra l'altro vanno molto per la maggiore come Carrère ma anche perché appunto bisogna sempre fare archeologia e Sciascia sicuramente ha costituito magari inconsciamente indirettamente un modello per questa ripresa dell'ibridazione dei generi letterari il discorso è che appunto io facevo un discorso di generazione letteraria tutte le altre generazioni che hanno seguito questi ultimi grandi scrittori che poi muoiono diciamo Pasolini nel 75 Calvino all'inizio degli anni 80 Fortini Sciascia alla fine degli anni 80 all'inizio degli anni 90 sono diciamo imbevuti di un immaginario diverso che è proprio quello diciamo in generale dell'epoca postmoderna quindi quando si parla di un ritorno alla realtà in realtà è appunto scusate il bisticcio ma c'è da fare un discorso sulla cosiddetta post realtà cioè su quanto gli scrittori di oggi si misurano e come sui fatti della cronaca sulla conflittualità del presente ma il loro immaginario è appunto imbevuto della videosfera e di come la realtà viene filtrata dai media e diciamo in generale dai social e dalla comunicazione digitale quindi credo che siano discorsi insomma da tenere separati ma diciamo in entrambi i casi io credo che il filo conduttore sia questa fiducia nella letteratura e ripeto ho tenuto a sottolineare più volte che non si tratta di un realismo diciamo come categoria generica e come un passepartout quella di Sciascia è una scrittura appunto molto più misteriosa quando parlava Andrea Verri io mi sono ricordato di una cosa che mi diceva sempre Roberto Roversi questo poeta come sapete amico di Pasolini che Sciascia ha conosciuto e mi diceva sempre io ogni volta che rileggo qualsiasi testo di Sciascia è come un cruciverba e non era una citazione ovviamente la raccolta di saggi mi diceva proprio questa sensazione di un rompicapo di molteplici livelli di lettura cosa che è stata dimostrata da Andrea quindi rimango in ascolto ma sarebbe bello continuare a parlare di queste cose anche molto attuali grazie comunque per lo spunto Andrea non so se vuoi rispondere e poi abbiamo un'altra domanda questo è un problema un po' nel senso Sciascia non ha mai rivendicato un ruolo particolare per gli intellettuali anche se poi di fatto si sa benissimo di averlo di fatto di averlo perché lo dice anche dice è anche normale che poi si coaguli il consenso attorno a una figura come l'intellettuale questo problema diventerà di quello che può capire l'intellettuale diventa un problema molto molto serio nel 75 ancora non si riaspetta ma tre anni dopo diventerà un problema serissimo come ci diceva prima e coinvolgerà anche Pasolini ma da morto nel senso che Sciascia adora fare i conti e dirà quando viene rapito Moro dirà in più volte dirà sostanzialmente ma io in realtà ho tirato solo le somme di quello che tutti di quello che si vedeva che stava accadendo in romanzi con Metodo Modo e così ha fatto anche Pasolini abbiamo fatto solo sintesi di quello che sarebbe poi inevitabilmente successo poi lui dice questo in più interviste quelle che sono state raccolte nella Palma Val Nord e poi in Saremo Perduti senza la verità ma la cosa ovviamente insomma diventa molto seria e non è un caso se poi Sciascia per anni non scrive più romanzi di invenzione insomma quindi è molto interessante secondo me leggere quello che dice Sciascia nel 75 perché poi in prospettiva il problema come dire diventa molto molto serio e pesante insomma ecco questo grazie allora abbiamo Carlo Forte che dovrebbe intervenire sì buonasera buonasera a tutti mi sentite sì? sì volevo chiedere a Andrea Verdi una cosa rispetto ai riferimenti Sartre la guerra d'Algeria c'è un posto in Sciascia per la figura di Camus che è stato un po' no? un contraltare un interlocutore e come dire un avversario no? politico e culturale di Sartre in quella vicenda in quella vicenda là e più e anche più in generale mi veniva in mente così per le mie così conoscenze un po' sommarie di Sciascia è possibile immaginare un Sciascia che si sposta da Sartre verso Camus al di là dell'autore ma come come approccio insomma anche rispetto alla politica perché mi sembra che questo sia un percorso che ha riguardato altri singoli anche gruppi e un certo spirito complessivo insomma per cui Sartre non so se se ritornerà di moda proprio adesso c'è qualche segnale ma oggi Sartre è fuori moda no? Ecco questo Ci sono degli studi su Sciascia e Camus ma in realtà io non non sono cioè l'impegno di di Sciascia cioè voglio dire poi tra l'altro proprio l'impegno paradossalmente succede questo di Sciascia nel senso che diventa molto si espone molto di più proprio pubblicamente quindi assume sempre di più il ruolo dell'intellettuale impegnato sempre di più sempre di più nel quando in realtà ha maggiore distanza da Sartre cioè sostanzialmente dopo la morte di Pasolini quindi succede una cosa un po' un po' strana nel senso che si espone sempre di più sui giornali quando in teoria cioè è più lontano di fatto dalla posizione da posizioni sartreane diciamo ecco e mentre si rafforza sempre di più quell'ideale di letteratura come strumento di conoscenza superiore a tutti gli altri con diciamo anche delle alcune diciamo puntate un po' complicate ciascia riesce di fatto in questa cosa che secondo me riesce solo a lui di come dire avere una visione dagli anni 70 agli anni 80 una visione della letteratura molto particolare articolata che esclude altri ambiti in parte cioè tende a mettere non escludere ma insomma a mettere in secondo piano altri ambiti del sapere altri marxismo e anche un po' la psicanalisi a allontanarli sempre da sé e contemporaneamente però non a richiudersi ma a continuare a pretendere l'impegno quindi è una posizione tutta è una posizione tutta sua effettivamente almeno per come la vedo io molto molto particolare perché riuscire a esaltare la letteratura e in contemporanea a cercare di di mantenere l'impegno adesso io lo sto spiegando male ma è una cosa che riesce credo quasi solo a lui in questi termini in cui lo fa lui che sono veramente particolari complicati perché poi in opere come faccio per dire la ferma oro crea delle cose che sono che è chiaramente impegnato ma che dal punto di vista letterario come dire è elaboratissimo e non catalogabile oggettivamente però credo che sia una cosa rarissima che faccia sostanzialmente lui forse Ricciarda se spiegarla meglio tu sta roba non so ecco no l'hai spiegata bene anche tu ecco però io penso che sia una cosa tutta sua e anche difficile da imitare tant'è che i suoi racconti d'inchiesta sono molto particolari cioè li scrive lui ma io non credo che ci sia qualcun altro che sia in grado di fare quelle cose che fa lui perché se le fa qualcun altro secondo me diventano anche un po' inaccettabili cioè rischiano di diventare oggettivamente inaccettabili questo è un parere mio personale nel senso ecco parlando di di questa auto di questa cioè lo fa in una maniera del tutto particolare insomma che è difficile trovare pensando ai italiani contemporanei insomma a livello e nella maniera particolarissima in cui la fa lui grazie Andrea c'è una domanda per Moliterni da parte di Domenico Calcaterra che sarà poi il nostro per l'attore le prossime perché questa implicita chiusura all'esperienza di Calvino che rimane sempre al palo rispetto all'esperienza di Sciascia o di Pasolini perché istituire una chiusura così netta tra l'esperienza di Sciascia e di Calvini quando per vie diverse stanno dentro alla stessa crisi praticano certamente con esiti termetralmente opposto una letteratura intesa come detection non è una critica di modelli non è un gioco a falsificare quello inseguito da entrambi Fabio a te la risposta su questo prevedevo questo diciamo confronto con Calvino anche qui che andrebbe sappiamo molto tutti diciamo di lettere della importanza di Calvino proprio negli anni della gestazione libro dopo libro ora io credo che ci sia una cifra diciamo ora magari non parlo tanto di letteratura ma appunto di postura di atteggiamento di questi intellettuali nati negli anni venti c'è la malinconia cioè credo che come diceva Verri Sciascia è forse uno dei pochissimi scrittori italiani di quegli anni in questo si distingue da tutti i suoi compagni di strada a saper conciliare fino all'ultimo un disincanto e una malinconia che come abbiamo visto ha delle radici profonde perché abbiamo parlato del 1956 e Calvino è uno dei primi che si smarca dagli ideali diciamo progressisti e dal realismo dalle poetiche del realismo ecco io credo che Sciascia riesca pur sperimentando come abbiamo visto come abbiamo detto e come sappiamo all'interno del recinto delle forme letterarie nuovi moduli nuove combinazioni riesce però a tenere insieme queste due dimensioni la malinconia ma dall'altra parte anche un impegno civile di fronte al quale è chiaro che cambiano i riferimenti da Sartre da Camus eccetera credo che sia invece indiscutibile per esempio leggevo rileggevo qualche giorno fa l'articolo sulla non so se vi ricordate sulla esplosione della biblioteca è un articolo di Calvino pubblicato proprio all'inizio degli anni 80 cioè lui malinconicamente riflette su un fenomeno che poi diciamo scoppierà di lì a venire cioè di questa incapacità di seguire la tradizione letteraria la biblioteca dei classici anche semplicemente per una questione sociologica di iperproduzione della mercificazione letteraria e quell'articolo segna secondo me per esempio un discrimine tra come Ciascia continua a rimanere fedele ad una tradizione pensiamo a Libello su Stendhal che esce pochi mesi prima della morte Stendhal e la Sicilia e quanto invece Calvino reagisca in modi diversi diciamo a questa cifra comune della malinconia della perdita di valori di ideali nel corso degli anni quindi al di là anche diciamo dei generi letterari delle forme letterali credo che si debba fare anche un discorso di questo tipo di postura intellettuale di reazione alla storia del loro tempo che appunto secondo me distingue perché è necessario secondo me distinguere e non soltanto accomunare come dicevi giustamente tu Ricciardo tutti questi scrittori anche Pasolini e Ciascia vanno appunto accomunati ma anche distinti non soltanto per gli esiti stilistici ma anche proprio come atteggiamento nei confronti del loro tempo storico spero di aver risposto sì penso che sia un argomento su cui si potrebbe discutere effettivamente perché per esempio a me non parlo di Ciascia ma la contrapposizione è così forte Calvino contro Pasolini lascia sempre un po' perplesso perché anch'io insomma pur essendo mio cuore batte molto dalle parti di Ciascia che anch'io studiare una vita però trovo che insomma anche a rileggere una pietra sopra insomma 1980 anche quella prefazione che secondo me è bellissima insomma viene fuori anche in Calvino insomma una posizione che tutto sommato certo è vero è diversa però insomma ha una sua forza ecco va bene non so se abbiamo qualche altra qualche altro intervento abbiamo siamo già arrivati all'ora 17 ma se ci fosse ancora qualche domanda nient'altro va bene allora mi pare che abbiamo già appunto intrattenuto abbastanza sia i nostri scrittatori che anche i nostri relatori che ringraziamo ancora molto perché sono fatte due conversazioni molto interessanti senza dubbio che mi sembra poi così si rientrano benissimo in questa idea delle lezioni ciasciane insomma che ci permettono anche di rivedere un po' tutto tondo insomma questo scrittore all'interno di un quadro che è quello della letteratura italiana più recente quindi da questo punto di vista insomma mi sembra che siamo proprio perfettamente al centro di quello che avremmo voluto fare allora io ringrazio ancora molto Fabio Militerni anche Andrea Verri e ai nostri pazienti ascoltatori do allora appuntamento alla settimana prossima ancora mercoledì per l'ultimo appuntamento veneziano con Calcaterra e Alessandro Cinquegrani grazie a tutti ancora e a presto arrivederci buon lavoro buone cose arrivederci complimenti ricorda Moliterni e Verri saluti al prossimo incontro grazie a voi tutti grazie arrivederci